ci siamo va bene stiamo aspettando anche l'assessore Saltamartini che ci sta raggiungendo però nel frattempo io direi di cominciare stare raggiungendo per gli scritti praticamente buongiorno a tutti buon pomeriggio a tutti come abbiamo detto con i colleghi che sono in presenza nella giornata di mercoledì l'assessore Giorgio Latini convocherà un tavolo con le parti per valutare la riapertura delle scuole in presenza al 50% in sostanza dalla prossima settimana parliamo di un provvedimento che stiamo valutando dagli ultimi giorni della settimana scorsa perché negli ultimi giorni della settimana scorsa abbiamo visto che il numero assoluto dei contagi sintomatici stava scendendo come stava scendendo il numero dei positivi giornalieri questi due dati erano stati i dati che ci avevano allarmato nella settimana nella prima settimana dell'anno in sostanza quando avevamo deciso di emanare l'ordinanza proprio per evitare perché non si era in grado di comprendere se la curva epimediologica stava riprendendo in maniera molto repentina o se quei numeri che abbiamo registrato erano numeri diciamo isolati e ristretti a un periodo appunto limitato i risultati che stiamo vedendo attestano il fatto che insomma sia i sintomatici che gli asintomatici della scorsa settimana sono scesi in maniera evidente il che ci fa ci permette ci fa pensare che anche questa settimana speriamo i dati saranno in linea nella giornata di mercoledì noi contiamo di avere un calcolo anche seppur approssimativo dell'indice RT della scorsa settimana se l'indice RT della scorsa settimana sarà confermato sotto uno e i casi sintomatici continueranno ad essere un numero diciamo che non attesta e che non mette in difficoltà i pronti soccorso di ospedali noi vorremmo riaprire le elezioni riconsentire le elezioni in presenza dal lunedì della prossima settimana al 50% per le scuole superiori chiaramente per fare questo dobbiamo rimettere mano all'ordinanza ma lo tendo a specificarlo per una chiarezza quando avevamo scritto l'ordinanza l'ordinanza già prevedeva questa eventualità perché essendo un'ordinanza scritta per mettere in campo un'azione preventiva forte nell'azione preventiva forte era preventato anche il caso che i numeri scendessero e si potesse tornare in presenza prima come dicevo l'ordinanza è stata messa nei primissimi giorni del mese di gennaio quando noi abbiamo messo l'ordinanza si sarebbe dovuto tornare in presenza il 7 gennaio in realtà per DPCM si è tornato in presenza il 18 di gennaio cioè oggi che cosa voglio dire prima di chiudere voglio dire semplicemente che evidentemente anche l'ordinanza che avevamo emesso noi non era completamente infondata come magari qualcuno cerca di far passare perché i timori i dubbi e le perplessità sono state espresse per primi anche dal governo che poi appunto ha prolungato per tutti questo periodo io mi auguro vivamente che i numeri e la tendenza siano quelli della scorsa settimana che così lunedì potremo restituire un po' di normalità a tanti alunni potremo potremo restituire un po' di normalità alle scuole e fondamentalmente anche una socialità che a tutti noi manca e che tutti noi auspichiamo possa tornare al pieno per ognuno che possa essere anche per l'udio di un po' di normalità io concludo passando la parola all'assessore Francesco Baldelli grazie presidente come abbiamo avuto a modo di dire nelle settimane scorse la scuola ci sta particolarmente a cuore e vogliamo che i nostri studenti possano calpestare le aule dove apprendono tutte quelle nozioni che serviranno per costruire la classe dirigente del futuro in piena sicurezza quindi abbiamo deciso insieme al presidente per quanto concerne l'edilizia scolastica purtroppo di sostituirci al governo nazionale dal quale attendevamo dei segnali che ci mettessero a disposizione mettessero a disposizione di comuni e province proprietari degli istituti scolastici degli edifici che ospitano gli istituti scolastici le risorse necessarie per la ventilazione meccanica controllata delle aule per garantire la salubrità di quegli spazi frequentati dai nostri ragazzi frequentati dai docenti e da tutti gli altri operatori che ruotano attorno alla scuola questo purtroppo non è stato il governo ha scelto soluzioni di tipo diverso la cui utilità è fortemente discutibile pensiamo ai banchi scolastici con le rotelle messe a disposizione dei nostri ragazzi un investimento ingente che sarebbe invece stato sufficiente per compiere interventi strutturali atti a garantire la salubrità e il ricambio quindi dell'aria nelle nostre classi erano anche interventi non solo anti-covid ma interventi che sarebbero stati utili anche in futuro per altre tipologie di problematiche che si incontrano durante l'anno tra cui quella influenzale il ricambio costante dell'aria controllata meccanicamente fa sì che si abbiano anche dei vantaggi da un punto di vista di efficientamento energetico andiamo così a rispondere a tutte quelle esigenze di salubrità degli ambienti che sono fissate anche dal DM 75 e che il governo non ha mai voluto attuare se non con l'apertura manuale delle finestre nelle nostre classi noi andremo ad evitare questo grazie a un mandato che ci è stato dato dal presidente Acquaroli per la grande accortezza e gli accorgimenti che vogliamo adottare perché già dalle prossime settimane inizi l'iter per l'installazione di questi automatismi per il ricambio dell'aria e che possano garantire nel giro di pochissime settimane e pochissimi mesi a secondo anche dell'impegno dei comuni delle province che coinvolgeremo insieme a noi la garanzia che i nostri studenti accedendo negli istituti scolastici siano sempre più sicuri quello che ci è dispiaciuto che in tal senso non abbiamo avuto alcun tipo di supporto dal ministero e dal governo nazionale che ha parlato di tutt'altro e invece di parlare della sicurezza dei nostri ragazzi i spazi a volte anche non sufficienti per raccoglierli tutti perché noi sappiamo che ci dobbiamo far fronte a volte anche a delle disponibilità dei spazi molto ristretti le cosiddette classi collaio grazie grazie a te la parola all'assessore latini grazie presidente allora io ringrazio ecco la collaborazione di tutta la giunta per avere al centro il tema della scuola perché è un tema fondamentale quindi devo dire che ho trovato la collaborazione di tutti mi fa piacere questa grandissima attenzione proprio sulla scuola da parte di tutti gli assessori in primis del presidente perché il nostro obiettivo è quello di tenere le scuole aperte però noi vogliamo tenere le scuole aperte ovviamente in sicurezza ha spiegato benissimo il presidente il motivo dell'emanazione dell'ordinanza che è stata fatta in precedenza e ovviamente ci auspichiamo che si possano riaprire a breve con questo calo degli indici degli RT quindi convocheremo questo tavolo anche perché tutte queste le decisioni che abbiamo preso anche precedentemente sono state prese sempre con le parti sociali con le associazioni del mondo della scuola con l'ufficio regionale scolastico e continueremo a seguire questa strada la strada del dialogo soprattutto in questi momenti così particolari e critici per il nostro paese gli interventi che di cui abbiamo iniziato a lavorare perché ovviamente le scuole sono state chiuse per molto molto tempo noi ci siamo insediati da poco ma uno delle nostre prime diciamo progettualità sono state proprio incentrate a creare sicurezza nell'ambito della scuola quindi abbiamo individuato due tipologie di intervento quella che diceva appunto l'assessore Baldelli sull'intervento strutturale che quindi verrà fatto attraverso impianti di aereazione che appunto permettono il ricircolo e il ricambio di aria attraverso un bando con la partecipazione dei comuni e delle province e un secondo intervento che è quello dell'acquisto di strumentalizzazione idonea per garantire la sanificazione e la purificazione degli ambienti e dei locali questa è una misura che viene individuata con i fondi FSE è stata avviata la procedura la scorsa settimana la procedura la procedura dalla regione e la commissione europea adesso stiamo aspettando appunto la risposta ma l'avvio è stato portato avanti si tratta di 3 milioni per l'acquisto di questi purificatori e sanificatori di aria di ambienti e poi sono previsti altri 2 milioni di euro invece per l'acquisto di strumentazione informatica per gli studenti più bisognosi perché ovviamente le scuole riaprono magari riaprono gradualmente al 50% ci sono famiglie numerose che hanno più ragazzi che soffruiscono la didattica a distanza e ovviamente c'è bisogno di strumentazione informatica come sappiamo che ad oggi anche in presenza comunque è importante utilizzare la nuova tecnologia e quindi parte dei fondi che vengono appunto rinvenuti dall'FSE verranno indirizzati verso queste due misure ecco io penso che questa giunta ha iniziato a dare delle risposte concrete risposte concrete che purtroppo da un governo nazionale non sono state date perché il nostro governo il ministro poteva benissimo impiegare dei fondi importanti come ha fatto la Germania che ha impiegato 500 milioni di euro per impianti di areazione nelle scuole mentre qua invece 400 milioni come ricordava l'assessore Baldelli sono stati impiegati per l'acquisto dei banchi con le rotelle ecco qui significa avere diciamo una visione delle priorità e purtroppo ad oggi noi riapriamo ma senza nessuna misura che ci permette di riaprire comunque con tranquillità e in presenza al 100% perché io quando ero anche vicepresidente della commissione cultura istruzione abbiamo fatto come centrodestra come lega delle battaglie proprio per diminuire il numero degli studenti per classe quindi aumentare gli insegnanti ci siamo battuti anche per i sistemi di areazione ma purtroppo un dialogo il dialogo non c'è stato e questi sono i risultati ecco noi ci siamo messi al lavoro per dare delle risposte concrete cosa che doveva fare il governo e quindi penso che questo sia un segnale importante che diamo come giunta in questo momento difficile bene se ci sono domande aspettando l'assessore Saltamartini che dovrebbe arrivare ci sono domande grazie grazie un po' di domanda stiamo aspettando che le scrivano sì sì allora domanda di Alessandro Ranieri in che consiste concretamente l'intervento di edilizia scolastica in tema ventilazione citato dall'assessore Baldelli entro quanto tempo saranno attive le attrezzature e in quali istituti sì allora ovviamente dovremmo emanare un bando che individuirà sulla base della gradatoria che si formerà gli istituti dove si interverrà è una gradatoria che noi vorremmo poi comunque scorrere perché preso atto di questa esigenza del come dicevamo in precedenza del mancato intervento del ministero in tal senso noi vorremmo fornire gli istituti scolastici di questi strumenti per la ventilazione meccanica controllata in grado di ridurre la concentrazione delle particelle infette del eh di oltre il novantanove per cento quindi è chiaro che si crea un ambiente salubre per gli operatori che in esso eh lavorano eh nonché ovviamente per gli studenti che frequentano quelle aule quindi siamo molto determinati nel eh per disporre questo bando sul quale già gli uffici stanno lavorando nelle prossime due tre settimane quindici quindici venti giorni eh per poi attendere le adessioni dei comuni e delle province eh poi l'operatività sulla quale non ho dubbi dei sindaci dei nostri territori ma anche dei presidenti del provincia eh potranno velocizzare ulteriormente questo iter di installazione io sono pronto per fare la domanda se volete ok eh poco fa i sindacati del trasporti eh hanno parlato di steward e di un'app per le prenotazioni eh è una strada percorribile questa secondo voi e poi se possiamo avere un uno stato dell'arte sulla situazione dei trasporti cioè eh anche percentualmente fatto cento quello che era o fatto zero quello che era prima della chiusura delle scuole come è stato potenziato il servizio guardi lei fa una domanda qui non è presente l'assessore Castelli che ha seguito per noi tutta la vicenda insieme ai prefetti voi sapete che il governo aveva delegato i prefetti e lo stato dell'arte era che tutto quello lo dico in via generica perché non so nel merito poi esattamente nel dettaglio quello e quanto siamo intervenuti però lo stato dell'arte è che tutto quello che c'era stato richiesto è stato fatto e pronto e eh lunedì i trasporti si riaprirà la scuola come noi ci auguriamo i trasporti saranno in sicurezza se lei mi dice poi gli steward o l'app eh per che ha citato i sindacati io credo che la fattibilità sicuramente possa essere messa in campo tutte le iniziative possono essere buone però ecco stiamo a con la concretezza che ci deve contraddistinguere stiamo vivendo una fase di crisi sappiamo che la nostra è una regione già penalizzata dei trasferimenti statali sul trasporto pubblico locale che sono che che scarseggiano siamo l'ultima regione per trasferimenti sul trasporto pubblico locale quindi è chiaro che eh una difficoltà comunque la registriamo normalmente figuriamoci eh però io sono convinto che il trasporto pubblico locale saprà reggere e il trasporto pubblico locale nella nostra regione sul servizio di rientro a scuola sarà all'altezza della sfida che eh abbiamo preparato tutti insieme nel frattempo io se voi siete d'accordo prima della domanda vorrei fare intervenire l'assessore Saltamattini che ha delle novità riguardo della di tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per la eh per rientro in presenza degli nostri alunni con il presidente abbiamo valutato la possibilità di allargare questo screening che stiamo eseguendo sul territorio agli studenti al personale docente che eventualmente volesse eh approfittare di questa circostanza e non si tratta di nuove postazioni che noi eh struttureremo sulla sulla nostra regione ma eh di poter utilizzare le ehm gli appuntamenti che abbiamo che poi adesso vi leggo eh in modo tale che eh sia il personale docente che gli studenti possono senza prenotazione voglio sottolineare senza presentazione presentarsi eh nei nei posti dove sono allocate le eh lo screening e quindi eseguire il tampone antigienico rapido eh se volete prendere nota eh li facciamo eh innanzitutto dunque partendo all'area vasta uno dal ventitré al ventisette Isola del Piano, Sant'Ippolito, Fossombrone, Pergola, Cagli e Fermignano. Allora, Isola del Piano, Sant'Ippolito, Fossombrone, Pergola, Cagli e Fermignano dal ventitré al ventisette. Ripeto, Isola del Piano, Sant'Ippolito, Fossombrone, Pergola, Cagli e Fermignano dal ventitré al ventisette. Poi nell'area vasta due, venti, ventuno e ventidue, Falconara, Osimo, Castelfidardo, venti, ventuno e ventidue. Poi il ventisei a Loreto. Poi nell'area vasta tre, dal diciannove al ventidue lo facciamo a Re Canati. dal ventiquattro al ventisei a Castel Raimondo, dal venticinque al ventisei a Pieve Torina, dal ventotto al trenta a Tolentino e Corridonia, dal due al quattro a Sarnano. Nell'area vasta cinque, no, nell'area vasta quattro, dal venti al ventuno a Castel di Lama, il ventuno a Ufida, il ventidue e ventitré a Spinetoli, il trenta e il trentuno a Ripatranzone, Montefiore dell'Aso, Montalto delle Marche. Poi magari vi faccio una nota, lo so. Le altre notizie sono che domani mattina dovrebbero arrivare diecimila e cinquecentotrenta dosi di del vaccino Pfizer con cui completeremo i richiami eh del della prima fase e poi il il tra il venticinque e il ventisette dovrebbero arrivare mila e settecento vaccini della Moderna. Ho finito Presidente. Mila e settecento. Tra il venticinque e il ventisette. Allora cosa succede? Che eh lo screening noi l'abbiamo fatto cominciare dalle capologhi del di provincia, poi della città, Fano, Senigallia e così via. E lo screening in quel caso eh viene testato nei riguardi degli abitanti di quei comuni che si devono prenotare e così via. Gli studenti che volessero adesso con questa iniziativa che è stata chiesta sollecitata dal Presidente Acquaroli che io naturalmente condivido in questo caso in queste località dove lo screening è stato organizzato e predisposto per gli abitanti di quei territori si potranno presentare i studenti che vorranno con il corpo docente senza prenotazione ed eseguire il test antigenico rapido. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Lo studente di Ancona si può regare a Falconara, Osimo, Castelfidardo e Loreto? Di fatto apriamo lo screening di massa agli studenti e ai docenti che volessero fare il tampone, sottoporsi al tampone antigenico rapido prima del rientro in presenza. se non se ci sono domande Raffaele Vitali chiede che tempi di risposta vi aspettate dall'Europa visto che la parte sanificazione forse è la principale per dare sicurezza e quanto invece viene stanziato per la ventilazione meccanica? Vabbè l'abbiamo già detto prima? Due milioni no? Più tre? Allora viene stanziato, vengono stanziati, noi ci avevamo due milioni per l'iPad no? E per la strumentazione informatica per fare la DAD. Più tre milioni per la sanificazione, più stiamo stiamo predisponendo delle risorse per far partire un bando di una gradatoria e in base, e questi partiranno presumibilmente nei prossimi dieci, quindici giorni, il bando sarà attivato, poi in base a quelle che saranno le adesioni cercheremo di soddisfarle tutte, quindi se saranno due milioni soddisfarremo due milioni, se saranno tre soddisfaremo tre, se saranno cinque soddisfaremo cinque. però quello che non potremmo mettere ora, lo metteremo a marzo, perché comunque i tempi sono praticamente sovrapponibili esattamente. Ci sono possibilità per i residenti di fermo per gli screening? Di fare screening nella provincia di fermo, sì? Sì, assolutamente, in tutte le province, in tutte le province dove c'era già previsto lo screening per la popolazione, si può aprire, possono aderire i studenti e gli insegnanti, il corpo docente. A fermo potranno farlo, il 20 e il 21 a Castel di Rama. Scusa, un secondo. Sì, Ripatranzone, Montefiore. Allora, Spinetoli cos'è? Fermo, Ascoli. Allora, scusa, un secondo. E niente, ve lo dico fra pochissimo, perché vi ho presi così per il vostro incontro. Lo comunicheremo, no? Sì, sì, sì. Scusate, volevo sapere invece, mi sentite? Porto e Chiara. Ciao, sono Alessandra Massi. Volevo sapere, avete parlato di docenti e studenti, ma penso che sia anche per il personale della scuola o no? Sì, certamente, tutto il personale della scuola. Tutto il personale. Abbiamo semplificato ingiustamente. Scusate. Ecco, grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.